Signori, grande Napoli, non c'è niente da dire, grande partita del Napoli, va bene? Diciamolo, chiari? Non ci sono giustificazioni, nessuno che dica sì ma no, grande partita del Napoli. Comunque, perché la Lazio praticamente era davanti a noi, la Lazio ha battuto l'Inter meritatamente, quindi non scherziamo, la Lazio in casa è forte e il Napoli l'ha letteralmente annientata, non ha vinto 5-0, ha vinto un gol di differenza, questa è l'unica cosa, però come si era messa dall'altro la partita, avendo preso un gol al primo minuto con colpe sicuramente un po' della difesa e non escludo di Meret, perché Meret effettivamente uno diceva che ha già fatto, ha mandato un tiro preciso nell'angolino, però effettivamente secondo me, non lo so, Ospina lo parava, credo di sì, io non mi convince, Meret, comunque non fa niente, comunque noi lo dobbiamo tenere, speriamo, perché poi poverino speriamo che cresca, diciamo così, comunque grande partita del Napoli, grande partita di Spalletti, io Spalletti l'altra volta te ne ho dette di tutti i colori e le riconfermo, quelle cose che ho detto, perché poi sono stato preciso, io non so come a quelli che dicono, allora non sei buono, se perdono, io non ho detto che non è bravo a impostare le squadre, Spalletti è bravo a impostare la squadra base, così anche l'anno scorso e quest'anno la squadra è forte, gli ha dato un gioco, gli ha dato un carattere e si è visto tutto stasera, il pressing, guarda che il Napoli ha fatto un grande pressing nel secondo tempo, è partito dalla grande e ha fatto quello, ma sto parlando del pressing del finale, quando impedivi con il tuo pressing continuo anche di impostare le azioni alla Lazio, quindi grande è questo che è merito, è Spalletti, cosa hai sbagliato Spalletti? Perché sei un buffone, sei uno spaccone, ti piaceva fare le cose, tu sei convinto perché credi di essere un bravo allenatore e lo sei, però pensi di essere un vostro e lui dice io, pure se metterà cattapallo in campo farò vincere, invece no, hai avuto la presunzione, con Lecce sei stato punito, hai fatto giocare tutti i giocatori assieme, non si fa giocare tutti i giocatori, soprattutto perché sono giocatori che non hanno mai giocato assieme, mai, hanno fatto la partita con la Juve Stabia, e tu non puoi metterli assieme perché hai sempre bisogno di una base solida che è quella lì che abbiamo visto stasera, abbiamo visto stasera, e il Napoli, perché tu l'hai costruita questa base, l'hai costruita, tu hai dato il pressing, i giocatori si trovavano a memoria, anche se diciamo l'inizio appunto non è stato buono, perché c'è stato il gol della Lazio e per 20 minuti il Napoli ha mantenuto il controllo, è stato calmo, però sembrava non poter avere delle azioni, poi allo stesso guaraschelli a un certo punto diceva, ma sto guaraschelli, la partita la da poterà così, così vuoi che incominciava veramente a lasciare perplessi, poi improvvisamente ha incominciato a fare delle giocate come quella lì, pazzesca, con quel tiro, è stato veramente, allora ha detto, allora è semplice, insomma, allora bisogna fidarsi, e poi il secondo tempo è iniziato con alla grande, insomma, con Quaraschelli che ha fatto di tutto, si è mangiato pure un gol, su un'imbeccata di un politano pimpante che è entrato, è entrato e ha dato quella palla a Quaraschelli, Quaraschelli ha sbagliato il controllo, e questo è grave, però poi dopo ha fatto quell'altro giocate, ha fatto quei dribbling che ha dato la palla a Zelensky, Zelensky, e poi insomma, non pare che il portiere ha parato, eccetera, così, e poi ha fatto il gol su quella bella giocata di Anghissà, insomma hanno giocato bene, Napoli Anghissà, fatto una partitura, cioè hanno giocato tutti bene, Napoli ha dominato, signori cari, quindi questa squadra c'è, non stiamo a dire che Spalletti non è buono, l'anno scorso faceva bene, ma delusso sinceramente con quell'idea, soprattutto non avendo fatto giocare Mertens nelle partite cruciali dove sembrava fosse necessario, perché in quelle partite il Napoli si era perso, perché anche l'anno scorso era iniziato un po' la grande, però questa partita è stata eccezionale, se vediamo addirittura le partite dell'anno scorso della Lazio, il Napoli vinse all'ultimo minuto, fu un po' più avanti a Roma con la Lazio, eccetera, però non è che gioco granché, però stasera ha dominato, stasera ha dominato, al centrocampo prendevano sempre le palle, il gioco fluiva, ecco, quello è tutto, ecco perché non dovevi far giocare sei persone sconosciute che si trovano in coppocampo e non so ne canna fare, bisogna avere un equilibrio nelle cose, ecco perché io ti ho contestato Spalletti, però stasera io ti devo dire bravo, hai tentato all'ultimo minuto, c'hai pese, è bene, anche le sostituzioni non sono state, hai fatto entrare Spalletti, non l'avrei cacciato, non l'avrei levato a Quaraschelia, perché Quaraschelia stava proprio nel momento cruciale, lui avrebbe cacciato un altro gol o altre situazioni, lo so, quindi non l'avrei usato, Spalletti si è dato a fare, eccetera, comunque non l'avevo, poi un minuto alla fine hai tentato, come l'altra volta, visto che la partita sta andando troppo bene, hai già cacciato, hai già mettere D'Ambelè, non perché D'Ambelè non è buono, no perché l'altra volta D'Ambelè, insomma, si vedeva che lui non in questo momento sta ancora fuori dal poter giocare veramente, fece fare un rigore ridicolo e fece fare il gol da lontano, usando fermo e non muovendosi, hai detto appunto, siccome sta andando troppo bene, sai che faccio? Ci faccio la D'Ambelè, che si ha da qualche guai e l'ha da combinare, e infatti appena è trase un pum, ha tirato una palla, insomma, ma che cagliare, ma che cambiate a fare a un minuto, a un minuto alla fine? Dice, ma sì, perché tu, dice, vabbè, per perdere tempo, sì, ma chi le comunque fai recuperare i 30 secondi? Cioè, non, io sono contrario ai campi, sono contrario ai campi, vabbè, comunque, diciamo che è stata una grande partita, signori, il Napoli questa sera ha dimostrato di essere sicuramente in grado di lottare per lo scudetto. Quali sono le altre squadre? Juventus ridicola, poi dopo, sì, ma non è che è ridicola, tu hai comprato, ho visto la partita, tu hai comprato a Paredes, hai comprato a Bob Pogba, sei infortunato, Di Maria, sì, però tu non puoi giocare così, allegri, ecco, cosa direbbero i giocatori del Napoli, i tifosi del Napoli se giocassi come gioca la Juventus? Ma tu stai là con uno squadrone idealmente, eccetera, stai là tutto il tempo in difesa e non hai nessuna intenzione di attaccare, una cosa patetica, sta a Juventus, comunque, l'Inter è caduto misuriamente e quindi probabilmente il Milan sembra quella che stia giocando meglio, insomma, il Napoli credo che lo abbia superato con questa partita, non lo so se ha superato il Milan o siamo più o meno uguali, non ha importanza, grande partita del Napoli, il Napoli punta allo scudetto, non è che uno, cioè deve lottare, deve stare lì, non è che quelli dicano mamma, pensamma, eccetera, no, perché hai detto lo scudetto deve vincere, non deve vincere niente, deve lottare per lo scudetto, vogliamo dire che non siamo una squadra in grado di stare a quei livelli? Penso di sì, questo è il campionato, per il campionato italiano il Napoli può stare in alto, lo ha dimostrato stasera, ha fatto una partita perfetta, nonostante appunto iniziata male, certo, dei dubbi ci sono, Meret, Meret, Meret non convince, non ti dà quella sicurezza, capite, di cross, ogni po' che stanno cross, dite, ma lo piglio, chissolo, no, che stasera poi ha fatto una bella parata ad un certo punto, però pure ha fatto un'uscita a vuoto, il primo golo secondo me non credo che, cioè, se era un grande portiere era in grado, perché è vero che era angolatissimo, è stata una bella giocata di Zaccagni, ma il tiro era onestamente, non era così forte, quindi il portiere deve essere in grado anche di fare un passetto avanti, cioè, io non lo so, non lo vedo riattivo, e poi non sa mai se deve uscire, cioè, voglio dire, un paio di volte Kim, anche Kim ha fatto, che ha fatto il gol e ha avuto, però va di volte si è trovato indeciso, come se si aspettasse l'uscita di Meret, non arrivava e ha presa buttata la palla, quindi, ci sono dei portieri che, che, che praticamente, sono portieri decisi, che ogni, in ogni occasione fanno quella cosa, se tu non sai, se io non so se il portiere esce o non esce, non è che io, io devo saperlo, va bene, Meret, comunque, Meret ci sta, quindi speriamo bene, speriamo bene che le cose andavano, bene, va bene, signori, grande partita, Napoli, Napoli c'è, basta, vedete, ma che ci abbiamo, il Liverpool, io ho detto che, come stavamo inguaiati, magari, perdevamo Cono Colombo, ma non ci credevo, però pensavo in un pareggio, sinceramente il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita, e, 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 un Liverpool, ma vediamo che succede, comunque, comunque, il Liverpool, che tra l'altro, non è che sta andando bene, perché comunque sta perdendo parecchi punti, speriamo che non si risvegli a Napoli, va bene, signori, buonanotte, il Napoli c'è, può lottare per lo scudetto.